Ehi, si vede il mare! Che figo! Buongiorno! Oggi siamo sulle Alti Aguane, siamo partiti da Piglionico, siamo a circa 1100 metri d'altezza e andremo a Pania della Croce! Arrivati ai Fugio Rossi, il primo obiettivo di oggi! Focchetta del puntone 1611, la nostra meta è sopra qui! Il sentiero, adesso che è fine maggio, è un po' innevato durante la serita, c'è il canalone innevato e comunque come prima escursione di 700 metri posto in Fortunia è abbastanza impegnativo per il mio ginocchio, non tanto nella serita ma vedremo nella discesa. Ehi, si vede il mare! Che figo! Che panorama! Grazie a tutti! Meglio di no con il ginocchio! Meglio di no! 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 Meg